A Cosenza, con l'arrivo di 25 nuovi artisti, si è aperta la prima sessione dei Box Art 2017-2018, un progetto che già nei primi due anni ha suscitato l'interesse di numerosi media nazionali ed internazionali. Siamo gli unici in Italia ad aver ormai avuto questa caratterizzazione così forte su un aspetto che riguarda l'arte contemporanea. Siamo ormai conosciuti, tutti i giornali dell'arte hanno parlato dei Box Art di Cosenza, così come tutti i giornali specialistici, ma siamo andati anche sulle riviste nazionali e internazionali. Quindi Cosenza ha la necessità di proiettarsi fuori dalla città perché noi miriamo molto a rendere più ricco questo territorio, anche per i contenuti culturali e turistici, perché abbiamo bisogno di nuove ricchezze per produrre poi nuovi posti di lavoro e opportunità anche per i giovani e quindi puntiamo molto sulla produzione culturale. Siamo stati premiati per questo stesso progetto allo SMAO 2015 come città smart, come città innovativa nel campo della produzione culturale. Adesso aprirà nei prossimi mesi il Museo di Arte Conte Borane all'interno del padiglione che abbiamo ricostruito su San Domenico, in attesa di poter realizzare poi la nuova struttura proprio nella vecchia fabbrica di Mancuso e Ferro, da dove poi partirà anche l'opovia che porterà al castello. Questa prima sessione che si svilupperà con tutti i linguaggi dell'arte contemporanea fino al 10 luglio avrà anche delle piacevoli novità. Cioè la novità intanto del catalogo che racchiude l'esperienza di due anni di attività, quindi 2015-2016, circa 230 artisti che hanno partecipato alle residenze in questi due anni e poi anche un'altra importante novità sarà quella che a breve, insomma adesso si parla anche di luglio, probabilmente poi magari potrà slittare a settembre, ma comunque c'è uno spazio espositivo San Domenico che è praticamente pronto per ospitare a rotazione. Le oltre 260-70 quelle che sono opere già acquisite in donazione dalla città è importante perché per la prima volta i cittadini di Cosenza e dei dintorni potranno avere una collezione della città che rispecchia quelli che sono i linguaggi dell'arte contemporanea oggi. I box art che in più di mille giorni hanno ospitato oltre 300 artisti mettono in circolo processi culturali e circuiti turistici importanti grazie anche alla presenza di artisti di fama internazionale, ospiti dei martedì critici.